Alessandro Toscano, Cosentino, è il nuovo segretario della FAISA, Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, CONFAIL, Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Calabria. Succede a Dionigi Napoli. È stato eletto al termine del primo congresso regionale che si è svolto a Cosenza, nel Chiostro di San Domenico. Noi daremo il massimo del contributo per migliorare i servizi di trasporto per i viaggiatori, non solo dal punto di vista dei trasporti in se stesso, ma anche dal punto di vista dei sistemi informativi e tecnologici. Per Toscano occorre intervenire con urgenza sulle condizioni di lavoro sempre più esposte a stress e sul contratto di lavoro che deve essere adeguato al mutato costo della vita. Per il neosegretario regionale non bisogna mai dimenticare le responsabilità che gravano sugli autoferrotranvieri, derivanti anche dal continuo contatto col pubblico. Un passaggio fondamentale è, per Toscano, anche l'adeguamento e lo sfruttamento delle nuove tecnologie per fornire informazioni sempre più dettagliate agli utenti, All'assise congressuale ha partecipato anche il segretario nazionale di Faisa, Domenico De Sena, che ha ribadito l'irrisorietà dell'aumento contrattuale proposto alla categoria. L'ultimo è questo del contratto nazionale che noi non lo firmiamo, perché è peggiorativo in tutti i campi.